Ciao, sono Davide Russo. Ciao, sono Giorgio Zeno. Il nostro sponsor è... Commercio Macchine Edili. Un bacio a Vincenzo Venillo. Sono Gerardo Ferreulo e lui è il bomber. Mi chiamo Ale Gennaro. Il nostro sponsor è LST. State tranquilli, non abbiate paura. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.